Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Ve lo farò vedere rapidamente, è un gioco che mi ricorda un pochino, un Football Manager, ma perlopiù un piccicalcio, vediamo, intanto qua ci va a creare il nostro allenatore, il gioco ha parte di licenze, parte no, nel senso che se guardiamo ci sono tutti gli stati, ci sono anche i team dell'NBA negli Stati Uniti, vedete qua, non credo ci siano le divisioni però, abbiamo in Italia la serie A, 1, 2, 3, e anche le serie femminili, le serie femminili hanno i nomi e i loghi originali, quanto visto, se ne partiamo invece con la serie A, partiamo con una squadra che noi scegliamo, ovviamente possiamo essere licenziati, cambiare squadra, andare ad allenare anche delle nazionali, e vedete che qua possiamo andare a scegliere il numero di campionati disponibili, un po' come si fa anche su Football Manager, possiamo decidere la gestione dello staff, qua non la fa lunga come la fa lunga Football Manager, Ora, vi spiegherò a grandi linee quello che io ho scoperto sul gioco e soprattutto, e credo sia la cosa che vi interessa di più, come la parte grafica, diciamo animazione in 3D, della partita Il gioco mi ha ricordato tantissimo PC Calcio perché ha anche una parte di natura gestionale a livello di catering e di marketing, infatti potremmo andare a decidere i prezzi dei biglietti delle varie sezioni del palazzetto dove la nostra squadra gioca, così come anche i prezzi delle bibite, dei panini, dei vari gadget, oltre che i servizi che lo stadio offre Adesso vi faccio vedere, qua ci sono le classiche mail, adesso vi salto il tutorial, in sintesi abbiamo le mail, ci sono anche gli eventi che capitano, quindi c'è stata una risa e poi decidere in un modo o nell'altro La ricerca, non la clicco perché ci metto un attimo a caricare e ci fa fare la ricerca dei giocatori, abbiamo i nostri giocatori e vedete che i nomi, per chi conosce la Brescia, sono tutti storpiati con una lettera soltanto Quindi non è un nome storpiato intero, il nome è giusto, qui è della valle, non della valla, poi il gioco supporta le mod, quindi non nego che un domani magari arriverà la mod con tutti i nomi giusti Cliccando con il tasto destro si apre un menu simile a quello di Football Manager, dove possiamo andare a fare l'offerta di contratto, licenziare, metterlo sul mercato e così via Le tattiche, le tattiche è una delle parti credo più semplificate ma anche interessanti del gioco perché abbiamo la rosa con i vari ruoli che possiamo scegliere, le riserve e soprattutto il minutaggio Il minutaggio è importante perché se impostiamo la gestione automatica dei cambi, loro cambieranno dando un minutaggio determinato da appunto questo slider a ogni giocatore fino a un totale di massimo di tot tempo Insomma la somma deve essere di tutti i minuti che giocano tutti i giocatori deve essere la somma dei minuti totali della partita, i 40 minuti della 45 insomma quello che è della partita E quindi qui in automatico dirà che questo giocatore qui in questo ruolo giocherà 34 minuti e ci sarà la sua controparte, lui gioca un AP-AG, ci sarà un AP-AG che giocherà i restanti minuti e così via Questo è in sintesi quello che determinate, qua vi dà il livello di forma, il livello stimato dell'abilità del giocatore, l'altezza, la posizione, la nazionalità, la forma fisica E anche la possibilità di mettere le tattiche offensive con i vari slider che potete tirare qui E soprattutto qui potete andare a creare le tattiche personalizzate, quindi andando a crearne una, la salvate, adesso la rinomino Potete andare a dire tu prendi, muovi qui, ti muovi là, mi muovo in un punto preciso, clicco lì Adesso, aspetta, io posso cliccare qua, muovi lentamente, ti muovi qui, poi aspetti, poi 0,4 secondi, poi passi la palla, un altro che è avanzato qui Cioè vi create proprio questi schemi qui che sono veramente molto interessanti L'allenamento è diviso per i parametri generali, l'allenamento individuale o l'allenamento di squadra con le varie intensità e priorità E tra l'altro potete, allenando individualmente le persone, potete andare ad aumentargli un determinato ruolo o un'abilità specifica Perché ogni giocatore poi ha i suoi parametri, un po' sullo stile di Football Manager ma con i punteggi in centesimi e non in ventesimi Avete anche le informazioni, ne approfitto per farvi vedere la loro condizione, la stagione, la carriera La carriera è proprio, i dati sono giusti ed è abbastanza ricco come, e anche i record che poi andranno a fare Molto interessante Abbiamo il calendario con tutte le amichevoli che abbiamo Le finanze, e questo è molto importante perché ogni settimana, ogni mese c'è il pagamento degli stipendi Soprattutto poi ci sono i costi di trasporto E pensate che la cosa bella che ho notato è che se la vostra società si muove ad una città geograficamente vicino Non spendete niente, spendete pochissimo Se si muove in fondo all'Italia, tipo il Brescia affronta il Bendisi, spende parecchie migliaia di euro per il viaggio E questa l'ho trovata molto inaspettata e gradevole come caratteristica Qua abbiamo i contratti, abbiamo le strutture, abbiamo il nome che non è quello originale Abbiamo le tribune dove possiamo andare un domani ad aumentarle Qua possiamo aumentare i prezzi, delle varie cose Gli articoli del negozio, dal catering al marketing, agli oggetti insomma I più venduti, qua ci sono tutte le statistiche E gli intrattenimenti, quindi scegliere se avere una cheerleader o meno E di che tipo, se lo speaker, la mascotte e così via Qua abbiamo lo staff, lo staff poi lo possiamo decidere, lo possiamo lasciare in automatico E poi abbiamo il centro trasferimento dove ci mostra tutto quello che abbiamo in lista trasferimento Le trattative in corso, lo scouting che stiamo facendo, i prospetti con i giovani giocatori E questo a grandi linee è quello che noi possiamo fare Abbiamo nella ricerca, adesso lo clicco, adesso aspetterà un attimo perché poi caricherà E vedete che abbiamo tutti i giocatori che stiamo andando a cercare Cioè che abbiamo ricercato, possiamo cercarli per nome O andare, vedete, cliccare e fare trasferisci Qua facciamo l'offerta d'acquisto di prestito Il budget che abbiamo di squadra L'importo che offriamo, insomma bisogna entrare nell'ottica di quello che è un mercato Dello sport, della pallacanestro La cosa che ho notato è che il tempo passa velocissimo Un po' sulla falsa riga di PC calcio Ora, la prima cosa che facciamo Cioè l'ultima cosa che facciamo in realtà Ma la prima a livello pratico È andare a vedere come è una partita Vedete qua abbiamo speso lo stipendio del giocatore Abbiamo perso una barca di soldi Non abbiamo giocato, è un po' una dramma Quindi dovremmo far quadrare anche i conti Vabbè, insomma qua abbiamo Ovviamente se veniamo licenziati o ci dimettiamo Finiremo nella sala d'attesa Dove aspetteremo un'offerta da una squadra Ovviamente questo può essere un'ottima alternativa Per un appassionato di basket Oggi sfidiamo la Virtus Bologna Non sarà facile Ma non è quello che mi interessa Vedete qua possiamo simulare Lo vedremo dopo Il gioca Il gioca è molto particolare Perché all'inizio ne sono rimasto un po' deluso Poi vedendolo andare avanti L'ho un po' rivalutato Vi faccio vedere Le tattiche Le tattiche abbiamo dei giocatori fuori Sostituiamo questo Per sostituirlo lo cambiamo con questo Ad esempio questo qui GT Questo qui Beh, qua li mettiamo in X Perché sono in nazionale E quindi questo è disponibile Quindi lo metto in S Che è la panchina Iniziamo la partita E la cosa che mi ricorda molto Questa modalità grafica qui È una modalità come fosse a turni Perché all'inizio mi aspettavo Delle animazioni Un po' sullo stile football manager Non dico NBA 2014 2014 Sì, 2024 Però vedete che Sembra turni Perché vedete che c'è l'attimo di sosta Cioè non c'è una gran dinamicità Non ce n'è per nulla Ma in realtà Vedete che può Farvi esaltare Perché questi qui avevano fatto Una tripla adesso Quindi voi È tutto molto compassato Come ritmo La velocità ideale Sarebbe questa In cui vedete che si muovono Molto più rapidamente Ci sono Fatto fallo Ci sono i cambi I cambi vengono fatti in automatico Perché abbiamo settato Cambi automatici Così come anche le tattiche In modo da semplificarci un pochino la vita E vediamo Anche la partita a velocità più elevata Qua possiamo impostare i time out Le tattiche offensive E le tattiche offensive Il contrario Difensiva questa Offensiva l'altra Quindi possiamo andare a cambiare In corso d'opera qualcosa Qua possiamo andare a parlare Con la persona E dirgli Di fare Determinate cose Di congratularci E così via E Fare le sostituzioni Qua abbiamo la possibilità Di chiamare il time out Vedete adesso Ce la stiamo combattendo Non rende molto l'idea Sul fatto dei rimbalzi Ma dopo un po' Iniziate a farci l'occhio E capirete Quando c'è un rimbalzo favorevole O non favorevole Tipo adesso hanno fatto Un trio da 3 Hanno sbagliato Insomma E la partita va avanti Va avanti Piuttosto velocemente Non è un tempo reale Ma la partita dura abbastanza Quindi è simpatica Come cosa Posso accelerarla ancora di più Vedete che Non è dinamica Sembra più un gioco da tavolo Però vi rende l'idea Di quello che sta succedendo Soprattutto Ed è una delle basi Della palacanestro È Il saper gestire I momenti di crisi E i momenti di euforia Nel senso che Io mi sono trovato In una partita Che eravamo sotto Di 25 punti Siamo riusciti ad arrivare A meno 8 Siamo arrivati a meno 8 E allora io ho fatto Uno sbaglio Ho sbagliato a livello di morale Perché ho chiamato Un time out E ho detto Ragazzi adesso Ce la stiamo facendo Boom abbiamo perso Di 25 punti ancora Quindi È molto bella Questo aspetto qui Possiamo ovviamente Andare a simulare Il quarto Quindi vediamo Come è finita 21 a 24 Siamo in vantaggio Possiamo simulare Tutta la partita E quindi arrivare Alla fine della partita Con il punteggio Che ci vede Sotto Bologna Di un punto Va bene Vediamo i punteggi migliori E così via E qua abbiamo speso 2000 Siamo andati a Bologna Abbiamo speso 2008 Lo spesi 6000 Per andare a Brindisi Quindi E praticamente Qua ci sta dicendo Che vabbè I nostri giocatori migliori Sono in nazionale Va bene E qua abbiamo Tutta una serie Di amichevoli Iniziali Che ci consentono Di fare Vedete Io adesso simulo Colpistoria E colpistoria Abbiamo perso E poi vabbè Avremo la nostra classifica Le nostre coppe Da giocare E così via Non ha la profondità Di un football manager Perché non ha Tutte quelle sfaccettature Che sono determinate Dai caratteri Delle personalità Dei giocatori Ma è più Di natura tattica Al vedere concretizzata Una tattica personale A livello di gioco E magari Un inculcare La propria mentalità Al proprio gioco Ad una squadra Magari Scarsa E portata alla vittoria Comprensiva Anche di un ottimo Magari mercato Di trasferimento Il gioco Non è senz'altro Per tutti Non so direvi ancora Il prezzo Perché Purtroppo Non è ancora uscito Lo sto registrando Quattro giorni Prima della sua uscita Io Ho 14.400 Mi pago 1.200 euro al mese Ho il contratto Per due anni Ho le mie specifiche Ho i miei trofei vinti I miei riconoscimenti Insomma C'è anche l'allenatore La pagina dell'allenatore Non è profondissimo È ben fatto Non Non c'è niente di dire Anche a livello grafico La partita Ovviamente Non mi aspettavo Che saltasse fuori Dal nulla Una grafica Simile a quella Di football manager Con tutti i movimenti Di giocatori Perché il basket È molto più complicato Da realizzare Con tutte le manate I falli E cose varie Quindi all'inizio Sono rimasto un pochino così Ho detto Ma non è un granché La grafica Poi in realtà Come vi ho già detto Sono entrato nell'ottica E comunque si capiva Abbastanza Quindi Uno gioca di fantasia Come d'altronde Si faceva con i vecchi giochi Tra cui anche Piccicalcio Ovviamente C'è la visuale Anche dall'alto Con i pallini Quindi Quella non ve l'ho fatta vedere Ma c'è Fatemi sapere Che cosa ne pensate Qua sotto nei commenti Vi saluto Vi rimando Un prossimo video gameplay Alla prossima E ciao ciao